Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, martedì 11 febbraio per quanto riguarda la spala. Oggi è il giorno di Luigi Di Biagio che si presenta con una conferenza stampa proprio finita poco fa. Sentiremo che cosa ha detto ai giornalisti. Poi naturalmente spazio alla politica per quanto riguarda Ferrara, un braccio di ferro diciamo così, un botta risposta tra i sindacati e l'amministrazione comunale sul regolamento delle case popolari. Andremo naturalmente in regione dove si cominciano ad avere già i primi nomi non solo della giunta Bonaccini ma si sa già il nome della vicepresidente cioè Ellie Schneil che è quella che ha raccolto il maggior numero di preferenze all'ultima regionale appunto del 26 di gennaio, dicevamo vicepresidente della regione Emilia Romagna e poi parleremo anche di Università di Ferrara, parleremo anche del coronavirus sia da un punto di vista proprio di scambi per quanto riguarda il commercio Italia-Cina ma anche appunto sulla prevenzione. Però apriamo, dicevamo con la questione delle case popolari. Non piace ai sindacati il nuovo regolamento di assegnazione appunto delle case popolari deciso dal comune di Ferrara che sarà portato all'esame delle commissioni consigliari lunedì prossimo. Oggi pomeriggio si è tenuta una conferenza dove sono state spiegate le motivazioni. No al nuovo regolamento di assegnazione delle case popolari proposto dal comune di Ferrara. A sostenerlo sono i rappresentanti di CGL, CISL, WIL, SUGNA, SICET e UNIAT che in una conferenza tenutasi presso la Camera del Lavoro hanno spiegato le motivazioni della loro contrarietà. Il tema è quello delle modifiche e regolamenti ERP, sia il regolamento sull'assegnazione degli alloggi sia quello delle emergenze abitative, regolamenti che come sappiamo sono già passati in commissione. Oggi c'è stato un incontro con l'assessore Coletti a cui noi abbiamo partecipato con la volontà di verificare se ci fosse la volontà politica di ripristinare delle corrette relazioni sindacali, volontà che non c'è stata perché lunedì c'è stato comunicato che i regolamenti andranno in consiglio comunale per cui noi come organizzazioni sindacali siamo state completamente distolte, insomma escluse dal confronto che fra l'altro è previsto dalla legge regionale. Non c'è stata data la possibilità di andare nel merito di regolamenti che dal nostro punto di vista invece avrebbero bisogno di modifiche più che sostanziali. La cosa principale è che da regolamento scomparsa il confronto con le organizzazioni sindacali, cioè sono saltate tutte le relazioni sindacali che invece prima esistevano e noi abbiamo sempre intrattenuto con la giunta di turno ottime relazioni sindacali, siglato protocolli, intese e consultazione. Nel merito circa il quadro dell'edilizia residenziale pubblica emerge che c'è un sistema dei punteggi che tende a privilegiare la residenzialità ma non in modo equilibrato, in modo squilibrato la popolazione anziana, sempre in modo squilibrato a discapito delle giovani coppie e delle famiglie con figli. Noi chiediamo che il regolamento in termini di punteggio venga riequilibrato perché credo che nell'edilizia residenziale pubblica debbano essere rappresentate tutte le categorie, altrimenti noi diventiamo una città di vecchi in cui nessuno poi verrà qui perché non trova le condizioni, nessuno, giovani coppie soprattutto le famiglie verrà qui perché non trova le condizioni favorevole. Il regolamento non sarà né ritirato né modificato, così risponde l'assessore Cristina Coletti. La residenzialità storica e l'applicazione ferma del principio di impossidenza valido per tutti sono i due principi cardine su cui si basa la visione che la nostra Giunta ha relativamente al diritto di accesso agli alloggi popolari. Ha specificato l'assessore comunale Coletti, diritto che deve essere garantito a tutti senza penalizzare le esigenze dei ferraresi. Ora parliamo del coronavirus. Il Ministero della Salute ribadisce che il virus in Italia non sta circolando. In ogni caso è bene applicare semplici azioni di prevenzione, le stesse tra l'altro che si dovrebbero utilizzare per non essere contagiati dall'influenza, partendo per esempio dal lavaggio frequente delle mani, come suggeriscono anche le farmacie comunali di Ferrara. Febbre, tosse, difficoltà respiratorie, nei casi più gravi polmonite, sindrome respiratorie acuta grave sono i sintomi più comuni dal nuovo coronavirus che si trasmette a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Informazioni essenziali e basilari per prevenire sia l'influenza sia il coronavirus, informazioni affisse da oggi in tutte le farmacie e ambulatorie medici per dare consigli utili, ma soprattutto per rivadire, come sottolinea lo stesso Ministero della Salute, che il virus in Italia non sta circolando. Nonostante ciò è importante una corretta e minimale igiene personale, a partire dal lavaggio delle mani che deve essere fatto regolarmente. Per questo motivo le farmacie comunali di Ferrara hanno iniziato una promozione presso tutte le farmacie del gruppo dei prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani. Una informazione che non ha una natura commerciale, ma per rispettare, spiega il direttore Michele Balboni, coerentemente il nostro ruolo di farmacia del territorio a dispensare corrette informazioni su un tema di grande attualità. E per quanto c'è possibile, continua il direttore delle farmacie comunali di Ferrara, stimolare buone pratiche di comportamento, in questo caso anche piuttosto semplici. Oltre al lavaggio delle mani, il consiglio infatti è quello di utilizzare fazzoletti usa e getta ed evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie. Se la Cina si ferma è un problema per tutti. Per questo motivo un professore associato di economia applicata del Dipartimento di Economia dell'Università di Ferrara ha inviato a Radio Cina Internazionale un videomessaggio di solidarietà pubblicato sul sito ufficiale. Un videomessaggio per esprimere la sua solidarietà alla Cina attualmente impegnata nella battaglia di prevenzione e controllo dell'epidemia del coronavirus. È quello che il professor Giorgio Prodi del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara ha inviato a Radio Cina Internazionale il servizio radiofonico internazionale in 65 lingue della Repubblica Popolare Cinese. Un video pubblicato sul sito ufficiale di CRI.cn. Tutti noi siamo fortemente colpiti da quello che sta capitando in Cina in questi giorni. Per sapere di tante persone che hanno perso la vita, di tanti ammalati, di tanta sofferenza in un periodo dell'anno soprattutto dovrebbe essere invece rivolto in particolare alla gioia per l'inizio del nuovo anno ovviamente ci rattrista. Le immagini delle strade, dei paesi, delle città vuote sono qualcosa di solitamente inusuale per noi. Quindi speriamo che tutto questo possa risolversi rapidamente. Un messaggio di vicinanza che ho voluto inviare ad un paese che conosco bene e che sta reagendo in maniera compatta sottolinea il professore associato di Economia Applicata che ricorda come la Cina sia un paese che ha prodotto un terzo della crescita mondiale. Devo anche dire che parlando con i miei amici che ancora sono in Cina i racconti sono comunque di un paese che sta reagendo, di un paese forte, di un paese che si riunisce. Quindi sono confidente che in tempi relativamente brevi le cose potranno tornare alla normalità. In ogni caso, pure nelle difficoltà, vi auguro un felice anno del topo. Se la Cina si ferma è un problema per tutti, spiega il professor Giorgio Prodi, che nel suo messaggio di solidarietà ricorda anche il capodanno cinese, la festa tradizionale più importante dell'anno paragonabile alle feste natalizie per i paesi occidentali che per colpa del coronavirus è stato annullato in tutto il mondo. Coraggio Cina, coraggio Wuhan, chunguo ziaio, Wuhan ziaio. Ora parliamo della politica, andiamo in regione perché l'ex europarlamentare Elie Schlein sarà la nuova vicepresidente dell'Emilia-Romagna. A ufficializzare le voci circolate in questi giorni è stato con una nota il governatore Stefano Bonaccini che ha anche confermato l'ingresso in giunta del manager culturale Marco Mauro, scusate Felicori, ex responsabile della reggia di Caserta. I due nomi si aggiungono a quello della vice segretaria della CGL Vincenzo Colla che avrà la delega del lavoro. La squadra sarà completata entro la fine della settimana, confermato Bonaccini. Bonaccini che ieri tra l'altro era proprio a Ferrara nell'ambito dell'Assemblea Congressuale di Conf Cooperative che si è tenuta a Palazzo dei Diamanti durante il quale è stato, diciamo così, eletto un nuovo presidente. Vediamo. Voglio ringraziare il presidente uscente Roberto Crosara che ha saputo in questi dieci anni qua a portare Conf Cooperative a dei livelli alti. Quindi è un buon passaggio di testimone e quindi ne sono molto fiero. Sarà un continuo su un solco tracciato e che deve essere più incisivo nel suo percorso. Ci sono quattro anni, il mandato dura quattro anni quindi di un duro lavoro e di un buon impegno e per fortuna abbiamo una squadra all'interno di Conf Cooperative che lavora dietro assieme al presidente e quindi io mi sento sicuro e tranquillo che il lavoro sarà fatto in pieno. Oltre a questo io tengo a precisare che saremo molto a disposizione di tutte le rappresentanze. Ripeto, tutte le rappresentanze e sottolineo quelle agricole che oggi ancora c'è qualche problema da risolvere ma sicuramente lo risolveremo. Poi siamo a disposizione di tutte le istituzioni, dei nostri soci in primis e anche delle parti sociali. Le cooperative ferraresi in questi nove anni possiamo dire che è cambiato tutto e nulla nel senso che le cooperative ferraresi continuano a lavorare, continuano a lavorare sul territorio, continuano a lavorare in favore dei loro associati ma anche delle pubbliche amministrazioni piuttosto che per lo sviluppo di questo territorio in quanto oltre ad avere cooperative di imprenditori abbiamo anche cooperative che sono nate da bisogni come le cooperative sociali e occupano spazi nell'attività economica che il pubblico o altri enti o altre società o altri privati non riescono a coprire. Abbiamo lavorato bene, sono stati tra i firmatari di quel patto per il lavoro che così bene ha portato a questa regione visto che abbiamo quasi dimezzato la disoccupazione e recuperato più di 110 mila posti di lavoro. C'è ancora tanto da fare, in particolare dobbiamo in questa provincia dare un ulteriore colpo alla riduzione della disoccupazione. È la provincia che è ancora oggi il più alto numero di disoccupati pur vero che abbiamo ridotto di bene il 4% in questi anni e infatti eravamo sopra le due cifre oggi siamo attorno all'8% però ripeto c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di lavorare insieme soprattutto come avevo promesso entro l'estate, anzi io credo anche prima, in poche settimane, in pochi mesi dovremo scrivere un nuovo patto per il lavoro e per la legalità che dovrà essere accompagnato da un patto per il clima perché il tema della qualità dell'ambiente non solo può essere migliorativo della nostra qualità della vita, migliore aria, migliore acqua, migliore suolo ma anche generare una grande opportunità di nuovo sviluppo economico e quindi Conf Cooperative non ho dubbi sarà un partner di nuovo decisivo in quella alleanza. E si terrà domani e dopo domani Unife Orienta due giornate di orientamento per aiutare a scegliere il futuro percorso universitario agli studenti delle scuole superiori. Il 12 e il 13 febbraio torna l'appuntamento con Unife Orienta ma che cos'è Unife Orienta? Unife Orienta è un evento che è giunto ormai alla sua ventitresima edizione organizzato dall'Università di Ferrara e rivolto a tutti i futuri studenti, quindi agli studenti iscritti alle scuole superiori, ai loro insegnanti, alle loro famiglie e in generale a tutti coloro che sono interessati ad acquisire un secondo titolo di laurea. È un evento dedicato all'orientamento in cui i partecipanti troveranno tutti gli strumenti necessari per maturare una scelta consapevole dei loro studi universitari, sia dell'Ateneo che del corso di studio. Entriamo nel dettaglio, quali sono dunque le caratteristiche di Unife Orienta 2020? Unife Orienta è questa manifestazione rivolta appunto agli studenti che si svolgerà su due giornate, 12 e 13 febbraio, con incontri di presentazione dei vari corsi di studio tenuti dai delegati e referenti dei corsi e inoltre i partecipanti e i nostri ospiti potranno prendere tutte le informazioni presso gli stand che sono allestiti al Mammut, al polo chimico-biomedico. Quindi tutor, personale tecnico-amministrativo, docenti, manager didattici, studenti senior saranno a disposizione degli ospiti per fornire informazioni sui servizi e sui corsi di studio. Oltre all'offerta formativa, quale altre informazioni possono ricavare i ragazzi da Unife Orienta? Sicuramente potranno scoprire l'elevato livello di digitalizzazione che l'Ateneo Ferrarese ha raggiunto in questi ultimi anni, quindi conoscere quelle che sono le app e i servizi digitali riservati ai nostri studenti, sia quelli già in uso, sia aiutarci a sperimentare quelli che stiamo ultimando di perfezionare proprio per il loro arrivo, anche proprio dedicati a orientare la loro scelta. Per concludere abbiamo detto 12 e 13 febbraio, da che ora a che ora? Dalle 8 e 30 alle 14. Ora la SPAL, conferenza stampa finita poco fa di presentazione di Luigi Di Biagio, il nuovo allenatore della SPAL e naturalmente che del suo staff tecnico, presso la sala stampa del centro sportivo GB Fabri, alla presenza del patron Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli, del direttore dell'area sportiva Davide Vagnati, tutti fiduciosi e ottimisti di poter portare a termine una vera e propria impresa, ovvero la salvezza. Però adesso sentiamo subito le parole di Di Biagio. Ragazzi li conosco tutti, ne ho allenati sette, qualcuno l'ho visto crescere anche se non l'ho allenato e mi veniva da sorridere quando il presidente prima diceva la nostra squadra è la più forte del mondo, perché non ci siamo messi d'accordo, ma io e i ragazzi appena sono entrato ho detto vista da fuori la SPAL tra le squadre che stanno lottando per la salvezza, secondo me è la più forte, ma lo penso veramente. È normale che i risultati oggi non dicono questo e dovremo fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto nelle ultime settimane. Mi soffermo sulle ultime settimane perché quello che sarò fatto in questi anni è storia, è una splendida storia fatta da Leo, che è un mio carissimo amico che l'ho sentito, ci siamo sentiti, abbiamo fatto il corso insieme, tanti anni che ci conosciamo, quindi lo saluto, l'ho salutato e adesso però bisogna voltare pagina perché non abbiamo tempo. Adesso risponderò alle vostre domande e da qui poi partiremo per qualsiasi curiosità voi vogliate sapere. I motivi che l'hanno indotta ad accettare le proposte della SPAL, quando sono arrivati i primi contatti, come si è presentata la società, come è riuscita la SPAL a prescindere da quello che lei ha potuto apprezzare del gruppo, come ci ha detto in precedenza, come la società ha convinto GD Di Biaglio ad accettare questa impresa, posso dirlo, veramente difficile? Diciamo che negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre, poi per tanti motivi, una volta magari non erano convinti loro, una volta non ero convinto io, questa è stata un'opportunità dove ci siamo incontrati in maniera veloce, dove abbiamo capito immediatamente che forse era la situazione giusta, difficile, come sta dicendo lei, ma non impossibile. È una bella sfida, complicata, ma comunque molto stimolante. Nella mia vita sono stato abituato a ben altre sfide, quindi non mi mette paura, non ho timore, sono convinto che basta veramente poco a far cambiare un attimo ai ragazzi l'obiettivo che in questo momento magari possono vedere anche difficile e lontano, ma non è così complicato secondo me, siamo sì a sette punti, non ci voleva la vittoria domenica del Lecce, però comunque vorrà dire che dobbiamo accorciare già da sabato, non abbiamo scelta. Allora torneremo su queste dichiarazioni e anche quelle di tutta la dirigenza della SPAL nelle prossime edizioni del nostro TV giornale. Ora parliamo di basket, della grande vittoria al fotofinish per la Felifarm a Ferrara, domenica pomeriggio, quando ha battuto di sole i due punti, 79 a 77, il Monte Granaro. Allora sentiamo l'intervista al coach Leca. Allora a me mi piacerebbe iniziare non dalla fine, ma dall'inizio. È stata una partita come si aspettava, maschia, che anche loro avevano preparato bene. Sono una squadra ostica, si è guardata anche le valutazioni di squadra, sono tra i primi, se non i primi. Già dei tempi di Cocciani, giocano un buon basket, con obiettivi chiari. E noi siamo stati bravi dopo l'inizio soft di rientrare in partita con la difesa. E abbiamo detto che non possiamo giocare a 25 punti subiti, perché se no non è la nostra paracanestro. Lì siamo stati bravi ad andare a punirli in post basso, dove avevamo qualche vantaggio in qualche situazione, nei mismatch. E abbiamo chiuso benino il secondo quarto. Dopo, nel terzo quarto, aspettavo una reazione loro con aggressività, anche ci sta. Siamo stati bravi ad assorbire, ad andare anche più 10. E se devo dire ai miei ragazzi, l'unica cosa, l'unica pecca, nei ultimi quattro minuti, che non si può giocare così, con delle leggerezze. Una squadra che vuole crescere, che deve avere un po' più di personalità e non regala così tanto. Tanto che arriviamo nell'ultimo episodio, dubbio, che dopo, sai, io faccio parte di questo gioco da 35 anni. Ne ho vinte, ne ho perse, anche in questi tipi di situazioni. Però io posso dire che per quello che abbiamo fatto vedere sul campo, noi non abbiamo demeritato di uscire con i due punti da Porto San Giordobo. L'episodio questa volta, secondo me, ha penalizzato loro. C'è poco da dire. Noi usciamo contenti, con due punti, con 30 minuti di buon basket. Quando lo passiamo la palla mettiamo in difficoltà tutti, nonostante gli altri difendono un uomo alla zona. Mi sono arrabbiato per gli ultimi possessi, per gli ultimi regali fatti. Una squadra che fa cost'ingenuità, non sono da ripetere. Allora, ricordiamo per tutti gli appassionati, alle 23.20, un'ampia sintesi della partita, appunto, di cui abbiamo appena sentito i commenti. Poi, alle 23.20, dicevamo, su Telestense. Subito dopo il TV giornale, alle 20.15, i donatori si nasce, con le testimonianze e le storie dei donatori Avis di Ferrara. Poi alle 22.10 c'è N.A. News, un argomento della puntata, il turismo extra alberghiero, con i consigli per investire in case vacanze, appartamenti e bed and breakfast. Poi alle 22.10 si parlerà di agricoltura, Campagna Mica News, con la partecipazione degli imprenditori agricoli aderenti a Coldiretti e alla Fiera Agricola di Verona per accendere i riflettori sui danni causati, provocati dalla cimice asiatica. Chiudiamo qua il nostro TV giornale. Per tutti gli aggiornamenti, vi ricordo, il nostro sito internet, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Al prossimo episodio